Il Natale a Cagliari è un Natale sempre più multiculturale. Don Marco Lai, direttore della Caritas, presente all'evento. È Natale, il Vescovo incontra gli immigrati. Qual è il messaggio principale, oltre a quello classico degli auguri natalici che oggi lanciate? È un po' la festa dell'incontro. Una città ormai multietnica, tante diversità. Noi siamo per affermare il valore anche dell'alterità. Nulla da cancellare, nessuno. Tutto da valorizzare e da riconoscere. Il Natale è un'occasione per l'Arcivescovo per incontrare tutte le comunità cristiane, le altre comunità religiose, la società civile, le comunità nazionali presenti nel nostro territorio per affermare l'alterità, la diversità come un valore, come una ricchezza. Il Buon Natale per noi significa proprio questo. Il Natale della solidarietà di un Dio che entra nella nostra umanità ma anche il Natale di una solidarietà che poi tra le diverse comunità dobbiamo proprio riuscire a vivere. La prima solidarietà è l'incontro, è il riconoscersi, è il dialogare e il costruire assieme la città, la città degli uomini qui in questa nostra Cagliari. Lei ha parlato di alterità e ha detto nulla si cancella. C'è qualche riferimento particolare a questa sua dichiarazione? No, beh può essere quanto ogni giorno viviamo, quello di un po' sederci sopra gli altri, da parte degli uni o degli altri. I fenomeni sicuramente anche del terrorismo possono essere un modo per dire cancelliamo qualcosa degli altri o la questione del presepe, ma no, alla fine poi qui a Cagliari si vive una dimensione diversa che è la dimensione proprio dell'incontro. E allora il Natale, così come le feste anche di inizio d'anno, diventano davvero una grande opportunità. Immagina, Maria la madre di Gesù è la donna più importante di tutto anche il Corano, non solo nella nostra tradizione cristiana. Tutto questo è davvero straordinario. Nei nostri incontri anche con i fratelli islamici spesso partiamo proprio da Maria Santissima passando per Gesù, per i profetti. E allora ecco, questo è il significato dell'incontro, incontro per conoscersi, scoprire i punti di convergenza, per costruire anche quella umana amicizia in una città che da sempre si lascia un po' contaminare, arricchire, pur conservando la sua identità e quindi anche la sua identità cristiana. Ecco Don Lei, l'ultima battuta, siamo a Natale, lei ha citato la querelle, ci passi il termine, legata al presepe. Praticamente qualcosa da smontare a livello di, tra virgolette, notizia. Ma io direi che la questione del Natale o del presepe sia una questione che riguarda più noi e quindi un atteggiamento quasi di stimore, mentre invece poi anche da tutte le testimonianze che riceviamo quotidianamente, a parte che il bambino di Natale non fa male a nessuno, ma a parte questo poi, e proprio quanto dicevo, conoscerci e conoscerci per quello che siamo, questo è davvero il punto di forza che dobbiamo far crescere più un problema nostro piuttosto che un problema degli altri, i quali vengono qui anche per conoscere il nostro Natale, per conoscere anche la nostra fede, la nostra religione, i nostri valori e anche i nostri costumi, le nostre tradizioni.